La sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali, non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e a presto Fabio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.